Come sempre, ormai da 22 anni mi chiedo un attimino di silenzio, di che altro perché non ce la faccio più di tattua a parlare volte. Allora, mi chiedete, il tempo passa in modo molto veloce, questo tempo è libero, e ogni anno, sempre l'altro ieri, ormai sono passati 22 anni, e negli ultimi anni il contenitore, il musicale del palco, questo grande festival, quel popolare, non so neanche come definirlo, c'ho mai, popolare, jazz, artistico, correntico, di tutto e di più, è diventato una realtà, una manifestazione che piace a tutti, perché c'è un po' di tutto, ed è accessibile a tutti, anche perché c'è questo, invece, di passi, di riuscire con l'uomo, soltanto di due euro, per le spese vive, dell'associazione musicante, e te lo scontreremo insieme un'estate, di ricchissima di appuntamenti, ci sono, c'è il calendario con tutte le date. L'inaugurazione è questa sera, questo bellissimo 24 luglio, lunedì, è un lunedì bellissimo, nonostante queste temperature roventi, e io sono contentissima, perché ho voluto fortemente inaugurare il festival quest'anno, con un'opera, inizio, che è il Trokofiev, un autore a me tanto tanto, che mi ricorda il tempo del conservatorio, cioè la cegna Renzo, l'autore. Io chiamo prima la ballerina, che mi deve stare un attimino qui vicino, a un'unità, che è la cegna, che è la cegna, che è la cegna, che è la cegna, che non mi conosce, sono in direzione artistica di questa manifestazione, ma prima presento, grazie, a Delicious, assessore Giovanni Piatolo, del Comune di Tescana, giovane, di appena adcuzione, che è una persona veramente migrazione culturale. A prescindere dal partito politico, dalla politica, che a noi artisti francamente non ci importa per niente, perché l'arte comanda è la cultura e i primi. Prego Giovanni. Grazie cara, dalla propria tutta devo trasmettere in mente una cosa, amici quando mi chiedono cosa sia per me la cultura, io rispondo per me la cultura è un'azione di intelligenza e bellezza, queste due caratteristiche sono quelle che accompagnano da 22 anni musicate e che sono le caratteristiche che accompagnano la sua direttrice artistica splendida, una bella Castiglione che tutti noi amiamo, perché io sono un assessore che prendo molto a promuovere il contemporaneo, l'innovazione, ma nel fare questo bisogna essere paladini, artigiani di quelle iniziative che in corso degli anni vengono amate sempre in tutta la città, amate dalle generazioni, da ogni tipo di persone in questa città e crescendo in corso degli anni vanno aumentando le popolarità, basti vedere l'avvenza di questa sala e per contenti di più, perché non tutte le iniziative valgono perché durano parecchio, durano molti anni, quando il tuo mi dice l'iniziativa ancora da 7, 8, 10 anni io rispondo sì, ma con quali risultati? Vanno capiti anche i risultati e per esempio mi chiede con quali risultati l'iniziativa del genere basta un colpo d'occhio di questa sala, dell'avvenenza di questa sala e della grandezza del cantellone che Mera che Mera che il Signore fa ogni anno, cioè noi abbiamo un programma fittissimo, bellissimo, con talenti locali e talenti nazionali che esplorono tutti i guaggi della bellezza legata alla musica, alla danza e ogni volta a fine della segna talmente tanta entusiasme e una partecipazione che Mera che fa Giovanni, quello che vi parlo anche che non so, sotto la data e certamente ci mancherebbe che non confermiamo tutti gli anni con una mappolizione musicale, questa è così amata e così tanto bene fa la città e così tanto nutre il futuro di bellezza, questa è una città grande a mia, grazie, senza completamente stare, non c'è bisogno di niente, solo della storia di una mappolizione musicale, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.